Giovedì 30 marzo, ben ritrovati su Vercelli Web TV. Rimane in prognosi riservata a Fiorilena Ronco, la donna accoltellata dall'ex marito l'altro giorno a Borgo Vercelli. È stata risvegliata dal coma farmacologico ed è vigile. Emerge un particolare. Lo scorso dicembre si era recata in pronto soccorso per aver subito delle percosse. Nel dicembre scorso venne in pronto soccorso, non fu ricoverata perché aveva delle lesioni lievi. Era stata colpita al volto, preverosimilmente dei pugni, quindi aveva solo degli ematomi per cui era stata dimessa. Ovviamente avevamo applicato il nostro protocollo che è già in essere dal 2015, quindi assolutamente sì. Ossia, a parte l'accoglienza e la raccolta dei dati da parte nostra, indirizzare la signora ai nostri servizi sia di accoglienza psicologica che a invitarla a far asporre denuncia e a procedere in tal senso, cosa che viene prevista dal nostro protocollo. Poi per quello che sappiamo noi, la signora non denunciò ma lo fece il papà, la mamma, i suoi familiari. E purtroppo non sono stati sufficienti per prevenire quanto accaduto. Oltre 100.000 prodotti non sicuri sequestrati dalla Guardia di Finanza di Vercelli durante un controllo di routine. Presso un'attività commerciale di Crescentino, migliaia di prodotti messi in vendita, privi dei requisiti minimali per la tutela del consumatore finale e in special modo dei più piccoli e quindi potenzialmente dannosi. Tra gli articoli posti sotto sequestro vi sono circa 77.000 prodotti tra giocattoli e oggetti di cartoleria destinati solitamente ai minori, molti dei quali composti da pezzi piccoli, particolarmente insidiosi per l'utilizzo da parte dei bambini esposti a rischi di soffocamento in caso di ingestione accidentale. Il valore complessivo della merce posta sotto sequestro è pari a circa 25.000 euro e ai trasgressori è stata altresì combinata una sanzione amministrativa fino a un massimo di 30.000 euro. Terminato a notte fonda il Consiglio Comunale di Casale Monferrato. Si è chiuso alle prime ore del mattino di giovedì 30 marzo il Consiglio Comunale di Casale Monferrato che doveva approvare tra gli altri punti anche un ordine del giorno sul potenziamento dell'unità funzionale interaziendale tra l'azienda ospedaliere di Alessandria e l'ASLAL per la lotta al mesotelioma. La maggioranza di centro-sinistra e l'opposizione di centro-destra hanno discusso a lungo in particolare sul punto sul quale SIP diceva che l'UFIM, quindi l'unità funzionale interaziendale non avrebbe raggiunto gli obiettivi prefissati. Poi dopo una riunione di maggioranza e l'una di capigruppo si è riusciti a trovare la difficile punto d'intesa. Da Casale Monferrato Massimo Iaretti Domani alle 21 presso la sala conferenze di Villa Paolotti a Gattinara avrà luogo il secondo appuntamento di marzo avventura con Vietnam Panorama in cui il gattinarese Giorgio Querciotti guiderà i partecipanti alla scoperta del Vietnam raccontando aneddoti e mostrando i paesaggi, le città, le persone incontrate, gli usi e i costumi, il livario tra nord e sud, il traffico caotico delle città, la meravigliosa Baia di Along. Al via la quinta edizione del Festival del Fumetto Vercelli tra le nuvole sarà presso il padiglione Ex 18 di Via Le Gariballi, si inaugura domenica alle 17. Allora il Festival del Fumetto torna per la quinta edizione, ci sarà un'inaugurazione il 2 aprile all'Ex 18, i padiglioni dell'Ex 18 dove faremo le mostre e lì ci saranno appunto mostre di tavole di Dilan Dog del disegnatore Giampiero Casertano, ci sarà una mostra su Diabolic che è un po' una continuazione di quello che è stato il percorso in questi anni del Festival del Fumetto qui a Vercelli e poi avremo mostre su Dampir, personaggio della Sergio Bonelli di Tore, avremo tutta una serie di autori che hanno interpretato il personaggio di Goldrake in una mostra molto particolare che si chiama Cuore e Acciaio, che è una mostra dedicata appunto ai robot giapponesi degli anni 80. L'associazione Telefono Amico di Vercelli cerca nuovi volontari per incrementare un servizio di aiuto attivo da più di 30 anni. Il gruppo di volontari offre infatti un importante appoggio alle persone che vivono in un periodo di difficoltà, uno sportello telefonico gratuito di ascolto, conforto e sostegno morale a chi si trova in una condizione di crisi o sta affrontando una situazione di disagio. Per informazioni è possibile chiamare i numeri 339-595-1514 oppure 348-7591-769. Domani a Camino Monferrato, presso la Biblioteca Civica di Via Roma 4, sarà presentato il libro 25 grammi di felicità di Massimo Vacchetta con Antonella Tomaselli. Il libro tratta di una straordinaria storia d'amore e di amicizia. Ed ora la pubblicità e poi lo sport. Sabato per il campionato di calcio di serie B arriva al Piola, il temibile Bari. Bari ha comunque comprato, ha preso giocatori di alto livello, c'è Floro Flores, Sparigini, non mi ricordo, però comunque ha comprato giocatori forti. Avendo già avvenza l'andata, comunque sono giocatori che magari anche giocando male, arriva la palla lassù e te la buttano dentro. Ho visto le azioni in alto giorno con il Novara, ma Floro Flores ha avuto 4-5 occasioni nitide, quindi sono giocatori di assoluta qualità e dobbiamo stare attenti. Sì, forse sono più squadra, però comunque a Trapani ho visto che hanno sofferto molto il campo sintetico, quindi dovremmo mettere in difficoltà anche noi qua in questo campo. Il club Scherma Casale organizza un'importante manifestazione sportiva dedicata allo sport olimpico più medagliato d'Italia ed in particolare ai numerosi giovanissimi che lo praticano. Sabato e domenica al Palasport Paolo Ferraris si svolgerà la terza prova interregionale Gran Premio giovanissimi. La gara è riservata alle categorie Under 14, sia maschili sia femminili, è aperta agli atleti tesserati in Piemonte, Liguria, Lombardia e riguarderà tutte e tre le armi in cui la scherma normalmente si declina. Spada, Fioretto e Sciabola, la competizione rientra nel calendario ufficiale della federazione. Saliranno sulle 14 pedanne installate al Palasport circa 500 giovani schermidori. Per questa edizione del nostro telegiornale è tutto e noi ci vediamo come sempre domani sera alle 19.